ciao a tutti bentrovati in questo nuovo video prima di cominciare vi ricordo di seguirmi anche in altri social iscrivetevi al canale lasciatevi tanti tanti like iscrivetevi soprattutto per non perdere nessun video e darmi una mano supportare questo mio piccolo canale allora quest'oggi come te sono bello sbarbato problematiche che poi vi dico video veloce volevo fare un video unboxing non l'ho mai fatto in questo canale volevo portare questo unboxing perché ho deciso di fare un piccolo upgrade per quello che riguarda l'attrezzatura per il mio canale penso si possa già intravedere anche da questo video che qualcosa di differente forse c'è l'unboxing ne avrebbe riguardato questo qua lo z flip il samsung z flip ma le vicissitudini di questa notte gli ultimi avvenimenti mi hanno portato a dire vabbè l'unboxing non lo facciamo e perché ci sono cose probabilmente più importanti voglio due cose velocissime ragazzi la prima vi lascio sotto in descrizione assieme ai miei social anche un link che riguarda il questionario sulla salute degli svapatori il per self survey a cura dei dottori poletti e solinas mi ha inviato questo messaggio sissi di ampu è completamente anonimo servono veramente cinque minuti ma neanche per compilarlo è un'indagine che riguarda la salute degli svapatori vi invito a compilarlo invito anche sissi se vuole sotto nei commenti o mandarmi magari anche un video messaggio per spiegare meglio di quello che si tratta poi insomma ne parliamo molto più ampiamente detto questo ragazzi vi prego è importantissimo visti gli ultimi avvenimenti che riguardano anche il mio sbarbamento perché al lavoro adesso faccio la notte questa settimana ieri sera sono andato a lavoro e possiamo lavorare ma dobbiamo mantenere però una distanza come le normative di noi però due metri dagli altri altrimenti lavorare con la mascherina mascherina che ovviamente fa caldo e quant'altro quella barba mi dà veramente fastidio quindi per questa sera che sto andando al lavoro ho deciso di togliermi la barba la cosa importante ragazzi visto che tutta italia è diventata zona rossa non facciamo cazzate non facciamo cavolate seguiamo quello che il nostro governo ci sta chiedendo di fare cioè stiamo a casa ultimamente c'è l'hashtag io sto in casa io sto a casa insomma seguiamo le regole ragazzi usiamo una volta tanto la testa e stiamo a a casa cerchiamo di combattere questa diffusione di questo maledettissimo virus più possibile tutti assieme seguendo semplicemente le regole che che ci vengono non imponi di rimposte brutto però in quel in qualche maniera ci sono ci stanno imponendo queste cose perché magari potevamo arrivarci anche da soli prima quando ci hanno chiesto di stare a casa invece di andare a sciare a fare gli happy hour oppure i rave party in piazza a firenze come successo questo fine settimana oppure scappare in massa dalle città del nord per tornare a casa al sud se avevamo tutti seguito queste semplicissime norme questi consigli che vengono dati forse non si arrivava a questa situazione ripeto forse magari ci si arrivava lo stesso però ragazzi è fondamentale usiamo la testa siamo dotati di cervello funzionante usiamo lo usiamo lo quindi ci chiedono di stare in casa di muoverci il meno possibile cerchiamo di rispettare queste semplici norme il momento è difficile però sono straconvinto che passerà quanto prima e tutto potrà tornare nella normalità più assoluta ci vorrà del tempo perché ci vorrà sicuramente del tempo però sono straconvinto che questo questa cosa passerà quindi ragazzi mi raccomando usiamo la testa usiamo il buon senso ci è stato chiesto di rimanere in casa a casa entro limiti del proprio comune ovviamente ci si può spostare se uno deve andare al lavoro o quant'altro io ad esempio sto in toscana ma la mia azienda è in umbria quindi sarò costretto a spostarmi per andare al lavoro poi durante il resto della giornata non è detto che non posso andare a farmi una passeggiata in campagna o quant'altro è comunque possibile andare a fare la spesa e le cose fondamentali però è importante non creare agglomerati di gente insomma usiamo veramente la testa siamo in grado di farlo facciamolo vi prego facciamolo come un'altra cosa che vorrei riallacciarmi a un video che ho visto di sfuggita poco prima di realizzare questo mio video di danielino 77 mi unisco al suo dire evitiamo ragazzi di prendere al volo le paure della gente perché effettivamente si sta spargendo la notizia che la sigaretta elettronica sarebbe utile a combattere il coronavirus fino a prova contraria no non c'è ancora un antidoto un antivirus efficace se poi mi volete dire che se uno che fuma ha più probabilità di essere contagiato ma non dal coronavirus da qualsiasi altra malattia questo è vero e che la sigaretta elettronica può essere utile per smettere di fumare questo è vero però non diciamo cazzate non diciamo non prendiamo non usiamo le paure della gente per poterci guadagnare qualcosa perché è veramente brutto l'ho già detto in un video precedente sfruttare il fatto del caos del panico creato per poter vendere disinfettante già mi è stato abbastanza qua quello quindi evitiamo di di trarre profitto sulle paure della gente ragazzi ripeto quello che ho detto prima usiamo la testa bisogna usare il buonsenso e la testa quindi ragazzi scusatemi questa questa piccola cosa però mi sentivo in dovere di farla perché il momento probabilmente lo richiede io non è che i follower non è che ho grandi aspettative però insomma cerco nel mio piccolo di invitarvi a fare la cosa probabilmente più giusta quindi hashtag io sto a casa se questo video è piaciuto lasciatemi like iscrivetevi al canale guardate i miei video se non avete niente da fare in casa però comunque in casa si possono fare tante cose oltre che parlare con la propria famiglia perché è una cosa che abbiamo perso un po tutti si può ascoltare della buona musica guardare video su youtube guardare delle serie su netflix o dove cazzo volete ma anche tanto per dire leggere dei libri io mi è capitato il fine settimana mi sono letto un libro intero quello di nasca dico anche di chi è era un tanto che non leggevo mi sono messo a leggerlo e neanche mi sono accorto l'ho letto tutto in un pomeriggio quindi ragazzi cerchiamo di usare la testa usiamo il buon senso usiamo la testa ci vediamo nei prossimi video ciao